Questa mattina ho portato il saluto della città metropolitana, socia fondatrice di AES che con l'ingresso di CISA entra a tutti gli effetti nell'agenzia e ho introdotto un paio di accenni sui temi trattati in questa settimana importantissima e interessantissima che l'agenzia ha curato, a partire dalla riqualificazione degli edifici pubblici fino alla più importante e corposa materia degli edifici privati, a partire dai condomini fino alle case private sia dal punto di vista dell'efficientamento energetico che soprattutto coniugato alla messa in sicurezza sismica.